Presente, a mano, Presente, esposi urbano, Presente, del prete, Presente, esposi d'orsino, Presente, Monaco, Presente, 1892, Presente, Carluccio, Presente, Mileno, Presente, Mosca, Presente, Buccio, Presente, Mariano, Presente, Mariano, Presente, Mariano, Presente, La Elisa, presenti, Balsamo, presenti, Sofio, presenti, Gise, presenti, Granato, Arte, Berlone, presenti, Berlone, presenti, Balsamo, presenti, Borsese, presente, Bruccio, presenti, Presente, Berlone, presenti, Berlone, presenti, 22 presenti, Berlone, presenti, la seduta è valida, si passa al primo capo e unico capo all'unione del giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, la relazione dell'assessore a bilancio, se il consiglio è del posto, noi chiediamo l'intervento dell'assessore a bilancio. Quindi la proposta, se non di formalizzare, dove si richiede l'intervento dell'assessore, cosa che faccia? La parola al consigliere prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.